Se avete bisogno di crediti a prezzi bassissimi ragazzi passate da yby.com, trovate il link qui sotto in descrizione e utilizzate il coupon MALATI15 tutto in maiuscolo per ottenere l'8% di sconto Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Noi Malati di Futio, sono FIFA Orso e oggi sono qui per portarvi la player review di Didier Drogba in form, versione con 82 di overall è un giocatore che ha deluso le mie aspettative ragazzi perché quando è uscita questa sua versione ho pensato subito che mi sarebbe piaciuta tantissimo, invece mi ha un po' deluso è comunque un giocatore nella media infatti ha i suoi pro, quindi andremo ad analizzare tutto con ordine vediamo intanto le sue statistiche in carta ha un 82 di overall diviso in 68 di velocità, 78 di drilling, 88 di tiro, 40 di difesa, 77 di passaggio, 80 di fisico ha 3 stelle di skill, 4 stelle di piededevole e un work rate medio medio andiamo appunto col primo pro il primo pro di oggi ragazzi è il tiro un 88 con 88 di posizionamento, 88 di finalizzazione, 91 di potenza tiro, 84 di long shot, 81 di tiri al volo e 89 di rigori come vedete ha dei valori molto molto elevati per quanto riguarda il tiro infatti basta guardare che il valore più basso è un 81 di tiri al volo e gli altri sono tutti superiori a quest'ultimo io penso che del tiro la cosa migliore siano i long shot, infatti i tiri data a distanza ho realizzato infatti ragazzi un gol bellissimo dalla distanza e questa è una delle cose appunto più buone passiamo al secondo pro ragazzi che è il fisico però esclusa la stamina, esclusa la resistenza che vi anticipo è un contro quindi veniamo il suo fisico, un 80 con 80 di elevazione, 67 di resistenza, 85 di forza e 81 di aggressività perché ho messo 3 pro il fisico? perché è raro ragazzi trovare un giocatore così, così come? così nel senso che è un giocatore che mantiene lo scontro fisico con tutti i difensori per quanto posso aver visto io e soprattutto ha un'ottima copertura del pallone dopo gli stop magari su un lancio lungo ragazzi il fisico è veramente una cosa che mi ha colpito rispetto a tutte le cose negative anche che ci sono di questo giocatore passiamo al terzo ed ultimo pro di oggi ragazzi che è il suo colpo di testa con un 98 di statistica il colpo di testa è un'altra delle cose che possiamo salvare di Drogba infatti quando si trova in aria, adesso poi vi dirò perché ho fatto questo appunto quando si trova in aria ha davvero un ottimo colpo di testa riesce sempre a prenderla e talvolta anche a segnare, a creare situazioni pericolose appunto in aria ho realizzato anche un paio di gol di testa adesso passiamo ragazzi ai contro qua ci sarà da parlare forse un tantino di più allora primo contro di oggi è la velocità un 68 diviso in 64 di accelerazione e 71 di velocità scatto per quanto riguarda la velocità ragazzi si nota tantissimo che il valore è basso in game ancora di più di quanto lo sia in carta ragazzi quindi poco ancora da aggiungere ragazzi la velocità è il primo contro secondo contro appunto ve l'avevo anticipato prima è la resistenza arriviamo verso l'ottantesimo se non qualche minuto prima ragazzi dove lui non ne ha veramente più e già la sua velocità non è un gran game in più aggiungiamoci che la resistenza è bassa immaginate quanto può aiutare la squadra negli ultimi minuti di gioco penultimo contro di oggi ragazzi è l'agilità un 65 di statistica non è per niente agile ragazzi anche qui c'è poco da aggiungere dovete provare il giocatore che non ha neanche un costo elevato e vi accorgerete che è perfettamente così come dico io ultimo contro di oggi è questo qui ragazzi importante perché mi collego ad un appunto che avevo fatto durante il video è il work rate medio medio ragazzi non è mai davanti non sta mai davanti come dovrebbe magari fare un attaccante io ragazzi non sono riuscito a mettergli più di due palloni in aria in una partita al massimo lo troverete al limite dell'aria non si inserisce quasi mai ragazzi e questa è una cosa che mi ha fatto tantissimo arrabbiare durante le partite il voto finale che gli do ragazzi è un 7 un 7 perché comunque un attaccante nella media che in qualche partita può fare la differenza ma che ragazzi non mi è piaciuto tantissimo insomma questa era la recensione di Diedrogba in form se vi è piaciuta ragazzi mi raccomando lasciate un like lasciate un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto qua da FIFORSO è tutto noi ci vediamo alla prossima review ciao ragazzi ciao 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 ciao